Yu-Gi-Oh tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo nuovamente insieme a Michele ci vuole portare la sua decklist di Nemu Radia bellissimo quasi come exorcista qua secondo me di più ciao il suo perché cioè l'avevamo considerato massa e merda nel pratico dopo vi faremo vedere siamo riusciti a battere anche dei tier quando avevano senso di essere chiamati di era detto questo vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner no car game corner e questo giro non hai sbagliato il nome della marchetta no e col codice sconto 2023 cappello avrete il 10 per cento di sconto su carte singole o prodotto sigillato inoltre se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Magic, Pokemon, Dragon, One Piece, Forza Will e Digimon trovate il link del mio instagram sotto in descrizione rivedermi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare possiamo dire che siamo veramente delusi dal fatto che nessuno ti abbia ancora dato niente di Digimon possiamo dirlo doveva arrivarmi la roba Forza Will non è più arrivata eh vabbè chissà in cui ho fatto Will c'è anche ragione detto questo ragazzi vi lascio a Michele io me ne ho allora ragazzi oggi vi faccio vedere questo mazzettino carino carino abbiamo testato tantissimo sto mazzo ormai quanto sarà un abbiamo iniziato praticamente il giorno dopo che hanno annunciato i supporti ho provato tutte le decklist possibili immaginarie comprese quelle che trovate nel web e sono arrivato a questa qui originale che secondo me è la versione migliore possibile per giocarlo l'abbiamo provata veramente in tutte le salse meglio di così non riesco almeno per i supporti che ci sono ora tanto altri supporti numerali non usciranno no però è veramente veramente carino poi vi inventiamo tutta una bella carrellata di replay che secondo me vi fanno capire le potenzialità del mare vediamo subito così a colpo d'occhio che ho unito tre archetipi essenzialmente abbiamo il nostro corne muralia il core di dogmatica prima dei nuovi supporti e l'engine break token perché perché nonostante non ci sia una sinergia nel senso che un archetipo ci riesce ad addare qualcosa dell'altro ci permette che di avere qualsiasi starter di uno dei tre engine e riuscire comunque sia a giocare e portare a casa un turno adesso poi vediamo tutto quanto più nel pratico quando commentiamo i vari match andiamo in più nello specifico giochiamo tre della dreaming nemurelia questo qui è un must assoluto cosa fa quando la settiamo quando la attiviamo come carta pendolo la possiamo mandare nell'extra deck scoperta per evocare direttamente per attivare direttamente dal deck una carta magia che sarà la nostra sleeping beauty tower of nemurelia il boss effect quello che cambia tutto quanto il fatto che qualora ci trovassimo una situazione in cui lei rimane l'unica carta scoperta nella nostra zona extra deck possiamo evocarla specialmente e bandire bandire una carta dell'opponente per ogni tre carte bandite coperte che abbiamo quindi è molto interessante perché comunque sia gioca bene con cash tira cioè non è che il mazzo se la gioca con cash tira chiaramente è molto sotto però si riesce ad incastrare molto bene e comunque boss monster master 3 a questo punto giochiamo due e due dei ciccioni si calano special a gratis così se abbiamo una nemurelia scoperta e lui ci protegge tutti dalle carte che targetano un nemurelia bandendo una carta dal coperta dell'extra deck lui può se nel turno nostro che dell'avversario possiamo bandire una carta coperta dall'extra per pompargli attacco di 500 per ogni carta mostro che controlla l'avversario finisco un attimo con le carte nemurelia perché rimane solo the sleeping beauty tower che è molto carina noi possiamo bandire due carte coperte dall'extra deck per raggiungerci uno e due in mano dal deck essenzialmente fa questo in più ogni volta che un nostro mostro nemurelia uno o più mostri nemurelia verrebbero distrutti in battaglio dall'effetto di una carta possiamo invece bandire una carta dall'extra deck coperta per annullare la distruzione e questo qui resterà molto molto utile a questo punto che altre carte ci mettiamo dentro iter of million assolutamente è fortissima quando la caliamo noi possiamo bandire tutte le carte che ci rimangono dall'extra deck permettendoci il turno successivo di calare una nemurelia che banna 5 coperti ed è fortissimo già così in più molte volte anche l'effetto di che quando attacca banna coperto mostro ci ha salvato la situazione abbiamo poi il mini repartino dogmatica quindi gioco un maximus dragma che vabbè semplicissimo quel fatto che giochiamo tutto l'extra deck carte che partono scartate al cimitero ci aiuta sia a sfoltire il nostro cimitero che a togliere l'extra dell'avversario quindi va molto bene in combo con l'oppo più flor de lis fortissima che ce la possiamo dare perché tramite lui possiamo scartare titan clad che ci ri ha da lei e nel turno dopo ci fa da neghino discepolo di nadir che non so che dire in questo mazzo che noi non giochiamo neanche una carta che entra da normal è veramente immenso perché ci fa fare dei più assurdi questa me lo scordate un'altra carta nel murale che non fa altro che attivarci lei e poi il pacchetto brave token penso che lo conosciamo tutti quanti quindi l'enchantress rito di aramesir e il grifone per quanto riguarda il resto delle carte noi come ormai penso che si sia capito vogliamo smaltirci a tutti i costi l'extra deck quindi giochiamo 3d all'extravagance 2 in perma tripla heavenly perché andiamo second un punishment perché perché sì c'è uno slot libero e mi piaceva l'ho testato un po' è da carino ogni tanto serve mono spolverino e mono rei jackie adesso stavo pensando di cambiare rei jackie con buco nero per una svariate di svariati motivi ma ancora devo testare e questo qui probabilmente diventerà un tipo dell'equilibrio se non vediamo per quanto riguarda l'extra è abbastanza classico sono tutte carte che partono una volta scartate quindi abbiamo doppio carrura che ci fa pescare school knight che una volta scartato possiamo bandirlo dal cimitero per spaccare un mostro school wagon che possiamo bandirlo dal cimitero per spaccare magia trappola è un test che fa tutto in volta che lo scarti spacca qualcosa ignister possiamo poi rimbalzarlo per se l'avversario cosa faceva se una o più carte che controlliamo vengono distrutte in battaglia dall'effetto di una carta dell'avversario mettessa nel cimitero lo possiamo bandire per rimischiarti la carta nel mazzo aggregator sinceramente l'ho messa perché quello lui c'ha l'effetto dal cimitero che quando viene scartata posso scegliere una carta sul terreno non gli agli rifletti ma poche volte l'ho utilizzata per rigid pure molto poche volte se la scartiamo ci fa pescare una carta e mettere una carta in mano in fondo al deck e bastard semplicemente ci ci fa aggiungere alla mano un mostro dogmatica e quindi fa partire tutto il legion dogmatico essenzialmente è questo niente più niente meno molto molto semplice io direi di vederlo abito all'opera adesso scegli te cosa partiamo io partirei con quello che abbiamo registrato c'è quello ok dai partiamo allora da guarda che non ti si guideva fatti vedere mentre lo dici vuoi vedere la faccia partiamo da quello che ho fatto contro di cappe dove ho stucato un pochino giusto un po' ora questo ecco vediamo un po' cosa fa partiamo con nadir che ci fa pescare digarura e quindi parte tutto il pacchettino dogmatica scartiamo due e ci siamo messi già ci siamo preparati già il cimitero perché il prossimo turno possiamo bandirlo per spaccare il mostro e se lui ci distrugge qualcosa possiamo bandire questo per rimbalzare il mostro nel deck a questo punto abbiamo esaurito il pacchetto dogmatica già gli abbiamo tolto due carte dall'extra e parte tutto l'engine brave token c'era lo suo figlio di puttana in mano di cane e quindi era totalmente inutile cioè potevo provare a fabbarone ma c'era poco senso finiamo tutta quanta la combo normale e parte anche l'engine morelia quindi ci riprendiamo in mano i due ciccioni e li caliamo quindi adesso come handboard possiamo vedere che non è esagerata a tutti gli effetti noi cosa ci abbiamo un omni negate lui che uno però lui che si pompa l'attacco e due protezioni dalla distruzione quindi come vera interruption all'oppo abbiamo solo lui attualmente però vediamo che già semplicemente beauty tower ci dà una bella protezione col fatto che non possiamo distruggere non può distruggerci i mostri ricordiamo che non è una volta per turno quindi se lui ci attacca dieci volte il mostro che ci dovrebbe distruggere noi semplicemente per dieci volte bandiamo una carta dall'extra che ci fa comodo sia noi che a lui e andiamo avanti vediamo cosa succede cosa fai continui a scombare se io ci avessi quel macchino negrosso che evoco dopo con 11 materiali teoricamente riuscire a dicapparti si a posto adesso qui lui continua a fare tutto lo suo combina non ho capito sinceramente dove volesse arrivare ma qui fa il più grande errore della sua vita cercando di spaccarci una carta che parte pegasus e gli rimbalziamo tutto quanto nel deck si a questo punto si vuole portare l'omine gate non ho capito perché non l'ha fatto ma la chiudiamo così perché comunque è un po' troppo veloce sto video è un po' troppo veloce sto video facciamolo vedere perché facciamo vedere dove prendo l'inculata facciamo vedere lo sguardo di cappe quando accade il tutto ecco in quel momento tocca a noi cosa succede peschiamo attiviamo l'effetto per pomparci l'attacco e quindi già diventiamo un 4000 banniamo 2 3 4 5 6 7 tutto il nostro extra deck per poter evocare mangiatore di milioni che entra dentro molto simpaticamente e parte l'effetto di nemurealia che visto che è diventata l'ultima carta scoperta nell'extra deck si cala così e banna una carta per ogni 3 quindi in questo caso ci va a bandire 4 carte 1 2 3 4 e via ecco reaction in realtà e niente portiamo in attacco e ci abbiamo un po' di gentina arrabbiata ecco adesso io qui volevo fare lo sborone ho continuato a spacca tutto giusto perché volevo e GG però sai contro le machine sono bravi tutti esatto quindi andiamo a vedere tier questo che è stato un bel incontro un po' piuttosto lui va con la classica una partenza molto molto buona perché comunque sia cioè sia Reinhardt che l'instant fusion c'era molte possibilità di giocare c'era una monocarta full combo nel senso parlamone si e non ho avuto troppo interruption io comunque sia non mi ricordo questa è vinta o l'hai persa penso vinta non ho capito perché è andato di babusca probabilmente c'era paura che era un mirror e cosa facciamo? andiamo di extravagance parte tutto quanto con la parte dell'engine in emuralia secondo me questo è un extravagance probabilmente no perché se stava qui mi toglie subito il token ma non ha capito che era un bait quindi a questo punto andiamo tranquillamente qui in emuralia neghiamo perché lui può visto che targetta ci ripompiamo gli spacchiamo i grossi il bello del fatto che siano ciccioni è che non partono gli effetti dei tier lament spaccati lui continua e si rifà tutto quanto noi attiviamo l'effetto giusto per smaltirci un po' l'extra è anche il mazzo visto che è ormai anche il mazzo perché ci hanno i massi 12 io a questo punto ero certo che l'avrei persa e probabilmente l'ho persa è sbagliato perché me la sono giocata bene però ho fatto un po' di una giocata in mezzo e ci fa Zeus che Zeus può essere problematico cosa succede continuiamo a mischiare c'è un 6 carte nel mazzo parte tutto il mondo c'è un preda planta situazione irrisolvibile ma entra lei che banna tutto c'è nulla all'effetto faccio di tutto per baitargli tutti gli effetti in modo che non può baitare questo e eccola entra la signorina c'ho 22 carte bandite quindi banno il mondo mi rinfoltisco un po' l'extra per avere qualche follow up e iniziamo a picchiare ma lui ha instant fusion non si sa come non si sa perché riesce a ribaltarla ulteriormente no mi sa che l'avevo persa si mi sa che l'avevo persa però me l'avevo giocata bene va con madima 3 e invece no mi sa che il servitore di nadir fa il gioco io qui sto facendo cose a caso tanto per cercare di baitare quello ma non ci sono riuscito nega spacca spacca no mi sa che l'avevo vinta ed eccolo qui io continuo ad attivare l'effetto anche se è negato solo per smaltirlo e ci abbiamo ragazzi abbiamo fatto una bella vittoria più forte della storia con numerale questo era sicuramente un giocatore scarso ma comunque sia è divertente io starei attento al nuovo set perché numerale esce da qua eh si io questo me lo prendo dal set come era stato Francesco inglese adesso non lo so dai fammi vedere l'ultimo dai non mi ricordo neanche contro cos'era questo è la sky striker qui cosa avevamo fatto era partito l'engine brave token lui non c'era disruption già vedo quel regecchi che mi fa piangere Garura ci fa il più uno parte l'engine dogmatica come sempre no invece l'online gate penso avrà risparata su regecchi ma dipende se non me l'ha abitato qui facciamo tutto ci abbiamo la partenza classica no no invece scala la gente non sa giocata su edo pro adesso lo sappiamo infatti stiamo qua su edo pro ma vediamo un po' qui va avanti fa tutta la combettina sennò gli negavi engage si ma col token è la classica cosa io qui lo attivo giusto per lui lo attivo sempre giusto per sbaltirmi l'extra perchè voglio il prima possibile arrivare a a poter fare le murali alla piccolina uno zeus link che entra sopra un xisk attaccato qua i scari sarebbe tipo dio adesso ce lo ruba noi ricaliamo continuamente i ciccioni con lei ci possiamo riprendere il token e abbiamo l'omni negate ci nega l'effetto perchè non sa cosa fa a tutti gli effetti perchè non penso che quel più 500 gli avrebbe cambiato la vita neghiamo ace ci riprendiamo il mostro e guarda come sta sudando già lo vedo si qui ci divertiamo facciamo cose mi evoca il kaiju versione sky striker non ho capito non ho capito assolutamente il perchè penso che perda anche per colpa di quello forse non era tipo meglio farlo su di loro lui continua a volermi distruggere sti mostri che non capiscono che sono essenzialmente gialli noi adesso lo stiamo prendendo per il culo poi alla fine può essere che perdi la partita sicuro perdo la partita c'è sta carta che è rotta se fa dei più infiniti vabbè lui mi continua a inculare i mostri schizzo di testa no aspetta c'è la posizione cosa? da ancora no targhetta? sei targhetta? allora sì quindi io continuo a riprendermi sperando che prima o poi finisca sta cazzo di carta di merda che veramente la odio con tutto il cuore continuo a spaccare cose sta facendo di tutto purino per poter fare qualcosa continuo a rubarmi i mostri continuo a riprendere tutto e a questo punto entra lei ogni volta che entra lei già sai che la partita è finita perché te banna tutto e niente qui non ho fatto in tempo a finire perché lui ha quitato incazzato nero e aspetta no sto figlio di puttana ma veramente oggi è che ammazzo del genere e niente che ne so e M cosa sarà? ah no Earth Machine con scelta di te Gain o Salman Salman Great Virtual World o Zombie? Cene uno solo perché sennò diventa troppo vecchio che secondo me Virtual World vediamo questa qui come era andata lui continua a fare su test e como Virtual World mazza veramente brutto ma se l'hai comprato da me eh sì appunto per questo posso dire che è veramente brutto l'ho testato sai che me ne che l'ho comprato un altro? perché? ah quindi mi devi scambiare l'ulù perché faceva parte dell'accordo questa cosa guarda che bello aspetta che ho fatto una cosa carina aspetta questo qui va va detto che io mi ero già preparato il terreno per lei che ha tolto tutto no non è possibile non è possibile ah ragazzi è il destino non ce lo parli qual è la lore? la lore è che Cap mi ha venduto Virtual World io ho fatto è in italiano e inglese sì sì assolutamente appena me lo dà scopro che l'ulù so in spagnolo allora dico guarda io te le prendo lo stesso perché non ha pure sovrapprezzate dico te le prendo lo stesso però te appena te le ritrovi altre tre me le scambi di rarità gratis di lingua gratis e niente se ne prendi altre tre in spagnolo sì ma io non so come ci sono così tanti spagnoli in giro allora e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e se la lista è migliore di quella di Albazare perché vuoi fare i dissing? cosa ne è? stanno in gruppo ce l'ho aggiunto io ci insulteremo detto questo vi ricordo come sempre che cazzo devo ricordare grazie per aver visto il video se hai lasciato un like meglio twitch in descrizione e ci vediamo domani prossima deck profile la diciamo sì golpride a post andata golpride ho sempre la versione da poveri perché ci mancano i ferri e quindi lo facciamo sui dopo ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti